È ancora nelle vene, quindi è molto forte tutte le volte. È un pubblico unico perché ovviamente io porto uno strumento, porto Bach in rappresentanza della musica classica e quindi mi accorgo istantaneamente. Appena tocco il primo suono che siamo subito sento la differenza del pubblico e questa emozione che cresce è un movimento di pance, di esseri che sono lì in ascolto. Mi piace pensarla così e poi lo sento anche fisicamente, quindi immagino che sia vero. L'emozione è alta. Credo che una delle cose più belle che si possa esperire durante questo incontro è proprio che si può suonare lo strumento. Quindi lo strumento viene appoggiato, come abbiamo visto, proprio delicatamente sulla pancia, sul corpo che vibra e si produce un suono. Una cassa armonica e un'altra cassa armonica che entrano in risonanza e quindi quello che succede è un po' magia, un po' si racconta, un po' si condivide e un po' credo che si porti proprio nel cuore come esperienza. Quindi sono molto contenta tutte le volte, anche per me è una benissima esperienza. Grazie a voi. Grazie a voi.